Corri! Mettiti a riparo! Ma ci sono UFO pecorini e mucche spaziali ovu... ... 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 Abbiamo distrutto l'ultima, proprio prima che rapisse quest'uovo! ... ... ... ... ... Grazie a tutti.